Come vi dicevo sto facendo dei lavoretti in giro e sto lavorando sui camper, lavori di vario tipo, mi trovo abbastanza bene, ad aver fatto il lavoro che ho fatto trovo anche simpatico, con dei piccoli accorgimenti sono cose abbastanza semplici, probabilmente la progettazione meccanica mi ha aiutato tanto quando ci facevano i montaggi delle macchine i camper non sono molto diversi, hanno dei piccoli accorgimenti che sono magari le siliconature, i sigilli diciamo che comunque possono tra virgolette essere un po' più delicati perché in automazione sei dentro un capannone quindi la macchina funziona normalmente. Ciao a tutti e a presto ci vedremo tra un lavoretto e l'altro, vi documenterò delle cose che mi accadono. Ciao ciao!